Ciao da Avsim! Nicolò Zagnolo mette like ai post dei giocatori della Juventus a Bonucci, a Locatelli e quindi anche a Vlaovic ed è fatta e quindi vuol dire che Nicolò Zagnolo è un nuovo giocatore della Juventus, lo sarà sicuramente al 100% questo svela, svela in un articolo d'inchiesta la Gazzetta dello Sport oggi, questo 28 febbraio ed è veramente una notizia clamorosa perché se Zagnolo mette like a Vlaovic, a Bonucci, a Locatelli è sicuramente un nuovo giocatore della Juventus ma potete metterci la mano sul fuoco, non rinnoverà il contratto con la Roma e arriverà a parametro zero alla Juventus a luglio 2022 quando tra l'altro compirà i suoi 23 anni perché è nato il 2 luglio 2022 quindi segnate già la data, il 2 luglio annuncio ufficiale con tanto di auguri di buon compleanno un po' come è successo con Vlaovic e quindi perfetto proprio veramente una trattativa ormai già segnata che cosa può mai succedere dopo che ha messo like su Instagram a Bonucci, a Vlaovic e a Locatelli è chiaramente un nuovo giocatore della Juventus ma non c'è soltanto questo perché sono in grado, nonostante Gazzetta dello Sport faccia questi straordinari articoli d'inchiesta che veramente cambiano il calciomercato e le sorti della Juventus da così a così io, io personalmente qui presente sono in grado di svelarvi altre trattative clamorose di calciomercato che riguardano la Juventus che ho trovato su Instagram quindi se Zaniolo con i suoi like si dichiara apertamente giocatore della Juventus perché poi tra l'altro quando aveva 10-11 anni su Facebook scriveva cose che lo dimostravano Juventino in cui manifestava il suo tifo per la Juventus e ad allegri piace, ad allegri piace Zaniolo quindi è fatta ci sono altri like su Instagram che dimostrano che ci sono altre trattative molto importanti che riguardano giocatori della Juventus e ve le vado a mostrare perché anche io cerco di fare il mio lavoro di inchiesta pur non essendo giornalista e allora abbiamo che a questo post di defray dell'Inter c'è il like di Mateis De Ligt e quindi signori mi dispiace adesso farvi cascare dalla sedia ma De Ligt andrà all'Inter l'estate prossima quindi tifosi dell'Inter tenetevi pronti perché l'anno prossimo avrete anche De Ligt oltre che defray e chiaramente è un like che non lascia scampo ad altre interpretazioni De Ligt ha messo like a un post su Instagram di defray quindi De Ligt va ovviamente all'Inter l'estate prossima quindi siamo felici per aver preso Vlaovic e adesso siamo pronti ad accogliere Zagnolo ma saluteremo De Ligt e questo ovviamente non fa piacere a noi tifosi della Juventus ma non andrà via solo De Ligt perché per esempio c'è anche un like di Locatelli a questo post di Castrovilli questo post Instagram di Castrovilli sempre di queste ultime settimane molto recente vede anche il like di Locatelli quindi Manuel Locatelli dopo questa stagione alla Juventus passerà l'anno prossimo alla Fiorentina e quindi salutiamo anche Locatelli non solo non abbiamo finito di pagarlo non abbiamo neanche iniziato a pagarlo Locatelli ma evidentemente la Fiorentina subentrerà nel prestito gratuito per la prossima stagione per poi andarlo a riscattare a circa 30 milioni quindi tanti saluti anche a Manuel non solo c'è un altro giocatore che andrà all'Inter anzi che tornerà in questo caso all'Inter dopo gli inizi della sua carriera e questo giocatore è Bonucci perché a questo post di Barella ha messo like di qualche mese fa post di Barella su Instagram like di Bonucci che quindi l'ha anche lasciato dopo mesi e allora signori è fatta Bonucci va all'Inter dopo essere scappato al Milan quest'estate segnatevelo perché Bonucci va all'Inter ma abbiamo altre due partenze già dichiarate che sono quella di Morata che ha messo like a questo post di Vasquez del Real Madrid e quindi Morata altro che tornare all'Atletico o andarsene al Barcellona non vede l'ora e scalpida di tornare al Real Madrid e quindi Morata non sarà riscattato dalla Juventus e l'anno prossimo ritornerà per la terza volta ad essere un giocatore del Real Madrid e l'ultimo l'ultima trattativa clamorosa di mercato che sono in grado di svelarvi in esclusiva è il passaggio di Weston McKennie al Tottenham perché a questo post di Kulusevski c'è anche il like di McKennie e quindi Zaniolo viene alla Juve però la Juve vende De Ligt e Bonucci all'Inter Locatelli alla Fiorentina Morata al Real Madrid e McKennie raggiunge Bentancur e Kulusevski al Tottenham queste sono notizie di mercato clamorose notizie di mercato clamorose che sono in grado in esclusiva di darvi quindi mettete like a questo video se queste notizie vi hanno cambiato la giornata e le ritenete affidabili come è certamente affidabile la notizia di Gazzetta per cui Zaniolo viene alla Juve in virtù di questi like su Instagram vi raccomando però se mettete like a questo video poi rischiate di venire a lavorare con me nei miei video quindi perché il vostro like potrebbe decretare il vostro passaggio ad Absim quindi fate attenzione mettetelo solo se siete convinti di voler passare da quest'altra parte dello schermo detto questo ma precisando anche un'altra cosa perché di inchiesta giornalistica in inchiesta giornalistica questo lunedì veramente si sta andando ma proprio dritti spediti verso il Pulitzer c'è tutto sport che in prima pagina ha scritto Allegri si gode il primato virtuale in classifica a partire dalla quinta giornata e qui partono i core signori e se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va ah 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 cioè qui siamo veramente all'apoteosi cioè avete capito? immaginatevi Allegri alla continassa che stamattina invece di fare l'allenamento e preparando quindi la l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina sta lì a stappare lo spumante a mangiare i pasticcini con tutto lo staff a godersela magari fumano anche un sigaro perché siamo primi in classifica cioè voi non lo sapevate io non lo sapevo ma tutto sport oggi svela che se la classifica di Serie A la modifichiamo ed escludiamo le prime quattro partite partiamo dalla quinta giornata che tra l'altro non è una cosa arbitraria cioè ha un senso escludi le prime quattro giornate perché le prime quattro giornate sono brutte e cattive ok? quindi non lamentatevi non è una cosa arbitraria e pretestuosa le prime quattro giornate sono brutte e cattive e così è basta perché si uffa e quindi e quindi bisogna considerare dalla quinta e dalla quinta la Juventus è prima in classifica quindi scansatevi chi è qui? Napoli, Inter, Milan ma che state dicendo? è la Juve che prima in classifica dalla quinta giornata altra grande inchiesta giornalistica che merita il Pulitzer ma restando su Zaniolo di cui vi ho già parlato di recente vediamo un po' diciamo i suoi i suoi dati questi però sono veri questi però sono dati dati veri e quindi Zaniolo in questa stagione 29 presenze 4 gol e 6 assist con Murigno in panchina con 2023 minuti all'attivo tra tutte le competizioni è partito 24 volte titolare 5 volte è subentrato e 14 volte è stato sostituito andando per competizione vediamo che in serie A fonte transfer mark 21 presenze 2 gol e 3 assist 70% titolare 63% dei minuti e 11% di contribuzione ai gol nella qualificazione in Conference League 2 presenze 1 gol e 0 assist 100% titolare 94% dei minuti e contribuzione al 20% dei gol in Conference League 4 presenze 1 gol e 2 assist titolare il 33% delle volte 34% dei minuti soltanto in campo 17% di contribuzione ai gol infine in Coppa Italia 2 presenze 0 gol e 1 assist 50% titolare quindi una volta titolare una volta no ma ha giocato il 75% dei minuti contribuendo al 33% dei gol della Roma in Coppa Italia ma dobbiamo parlare anche dei dati di rendimento di Zaniolo e dei suoi infortuni Zaniolo infatti anche in questa stagione così come nelle precedenti si è infortunato e si è infortunato ben 6 volte ha avuto 6 infortuni che gli hanno fatto saltare complessivamente 8 partite non tante ma comunque siamo poco oltre metà stagione diciamo a 2 terzi di stagione e già ha avuto 6 infortuni che sono stati una contusione a settembre che gli ha fatto saltare una partita un affaticamento a ottobre che gli ha fatto saltare un'altra partita un problema a un ginocchio sempre a ottobre che gli ha fatto saltare altre 3 partite un problema a un polpaccio a novembre che gli ha fatto saltare un'altra partita un generico problema fisico a gennaio che gli ha fatto saltare un'ulteriore partita e un problema muscolare a febbraio che gli ha fatto saltare l'ottava partita saltata per infortunio da Zagnolo in questa stagione in precedenza gli infortuni di Zagnolo furono un problema a un polpaccio nella stagione 18-19 saltando una partita il crociato 19-20 a gennaio 2019 172 giorni out saltando solo 14 partite perché poi ci fu il lockdown infortunio muscolare successivo al rientro saltando una partita e poi di nuovo il crociato 266 giorni fuori a settembre cos'era agosto-settembre 2020 settembre 2020 saltando ben 53 partite praticamente un'intera stagione la stagione 20-21 cioè la scorsa Zagnolo non l'ha praticamente disputata di questo dobbiamo assolutamente tenere conto perché stiamo eventualmente anzi no eventualmente stiamo andando a prendere perché è fatta cioè è fatta perché Zagnolo è un nuovo giocatore della Juventus non devo confondermi su questo non ci sono dubbi perché ha messo Laika Boruccia Locatelli e Vlaovic e dobbiamo tenere conto del fatto che non è un giocatore integro è un giocatore piuttosto fragile ma è un giocatore forte e quanto è forte Zagnolo per poter dire beh ce lo prendiamo anche se ha uno storico recente di infortuni abbastanza importante e una certa fragilità che certamente però è inferiore alla fragilità di Dybala che come lo tocchi si rompe giusto Dybala come lo tocchi si rompe poi vediamo perché su questo uscirà un video in giornata quindi iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche non vi preoccupate sono solo i like che sono compromettenti quindi potete iscrivere per quanto riguarda l'iscrizione non c'è nessun problema vi iscrivete attivate la campanella per non perdervi i prossimi video tra cui quello in cui vado a calcolare qual è l'incidenza delle assenze di Dybala nella sua carriera alla Juventus in parallelo con altri giocatori sempre della Juve ma venendo al rendimento di Zagnolo per vedere appunto se giustificherebbe il suo acquisto che però è già cosa fatta in funzione degli infortuni che ha vediamo che Zagnolo in serie A per esempio quest'anno ha una precisione nei passaggi del 78,3% che è bassa pensate che infatti rimanendo solo ad alcuni giocatori della Juventus che hanno una precisione più alta di lui abbiamo Chiellini che pur essendo un difensore centrale è uno dei meno precisi almeno della Juve Bernardeschi è più preciso di Zagnolo e Dybala guarda caso che ha l'85,2% di precisione Zagnolo 78,3% ora Dybala tra l'altro normalmente ha anche una precisione più alta ma questa Juventus è una Juve molto imprecisa rispetto alle scorse stagioni quindi questo incide anche su Dybala o viceversa anche il calo di precisione di Dybala incide insieme a quello degli altri per abbassare la precisione dei passaggi della Juve di questa stagione però di fatto Zagnolo con Murigno che non è assolutamente un allenatore bollito Murigno è un allenatore che pure che ha vinto anni e anni fa un sacco di cose ancora stramerita tutti gli applausi e non può essere criticato nonostante questo però la precisione dei passaggi di Zagnolo è bassa sotto i limiti della decenza quindi per quanto riguarda altri due dati che ho voluto prendere che possono rappresentare il potenziale le caratteristiche le qualità di Zagnolo rispetto a quello che specificamente farà alla Juventus abbiamo che i key passes nei key passes in serie A Zagnolo è a 1 a partita un key pass a partita quindi 1 ogni 90 minuti fonte who scored sia per quanto riguarda la precisione dei passaggi che per quanto riguarda i key passes a partita quali sono tra gli altri i giocatori anche di ruolo simile o comunque diciamo centrocampisti che hanno un numero più alto un rendimento migliore per quanto riguarda i key passes in serie A in questa stagione Barella Rovella Aramu Roberto Tucumano Pereira Mandragora Bonaventura Brecalo e Paolo Di Bala che è a 1 e mezzo mentre Zagnolo è a 1 altro dato fonte understat dice ma beh però Zagnolo avrà comunque un suo impatto importante nella creazione di occasioni da gol e quindi diciamo andiamo a vedere gli expected assist gli assist potenziali al di là di quelli che ha fatto che sono stati 3 in serie A e 6 in totale in stagione ebbene Zagnolo ha un expected assist ogni 90 minuti in serie A fonte understat di 0,09 chi sono i giocatori che ce l'hanno più alto di lui questo dato Messias Elmas Linetti Bonaventura Gagliardini Roberto Tucumano Pereira Ben Nasserro Frattesi Mandragora Rovella Bernardeschi Ramsey Ramsey 0,14 Ramsey Veloso Nandez De Sciglio Aramu Brecalo Onas Bairami Deulofeu Caprari Zaccagni Saponara e Di Bala 0,27 ora questo che cosa dimostra che Zagnolo è scarso no che Zagnolo è forte nemmeno cioè che è forte ma non è fortissimo o non sta rendendo abbastanza che Zagnolo è integro no che Zagnolo è fragile un pochino sì che Zagnolo è il miglior acquisto che possa fare la Juventus no che Zagnolo è un buon acquisto per la Juventus probabilmente sì ma bisognerà lavorarci ecco e tra l'altro ha avuto sei infortuni quest'anno più quelli precedenti in carriera e non è stato ancora allenato da Allegri quindi il meglio deve ancora venire ma tanto una cosa è certa che con questi like su Instagram Zagnolo è un nuovo giocatore della Juventus grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti c'è del sarcasmo in questo video e mettete like se volete passare dall'altra parte dello schermo vi raccomando i vostri like su Instagram ma anche su YouTube sono tutti monitorati dai grandi giornalisti di inchiesta che abbiamo in Italia in ambito sportivo e allora iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti di debunking e anche di grande inchiesta giornalistica con le esclusive di calciomercato che su Instagram proprio a pioggia anzi a cascata e abbonatevi a questo canale se volete anche sfruttare ulteriori vantaggi vi bastano 99 centesimi al mese per avere al mese per avere la programmazione in anteprima tutti i giorni con orari e argomenti dei nuovi video in uscita le chat riservate sul mio server Discord e la partecipazione in esclusiva alla chat dei miei live post partita della Juventus ci vediamo molto presto e sempre forza Juve e sempre forza Juve Grazie.